Bene ragazzi, qui Lorenzo e raggiungiamo su un nuovo vlog. Ragazzi, un mio amico, un mio amico che ha visto il video dell'altra volta, dove facevo vedere... Aspettate, fammelo trovare perché è stato pubblicato, ci vuole da molto tempo. Ehm, vabbè, i libri di Steve Jobs che si apre così, bellissimo. Ehm, facciamo attenzione che... Eccolo qua, Posca Bacca l'ho trovato, madonna, eccolo qua. Qua il numerone c'era scritto, qui. C'è scritto un numerone. Ehm, un mio amico che viene anche in villa. Si, ehm, ha indovina questo numero. Il vincitore è Aldo, complimenti. Ha indovinato il numerone, dove era stato veramente difficile, ma così troppo facile non era. Ehm, bravissimo. Ti meriti di vincere. Ehm, complimenti, bravissimo. Ehm, ragazzi, mi aveva consigliato anche un mio amico, sempre lui, di fare... Di fare... Di fare... Di fare la canzone di Rangham Style ballando. Ma non ho voglia di cantare, ballare, cantare, ballare, fare due robe del genere, ma... Vi dirò semplicemente una cosa. Che è se... Dovete consigliarmi nei commenti, nella descrizione, nei commenti qua sotto. Che come in ogni video, lo dico sempre, come in ogni video, mettete un commento mi piace qua sotto. Ehm, dovete scrivere delle cose che devo fare nel prossimo avviso. Cose umilianti, imbarazzanti, ehm... Mostali, soprattutto. Che se... Ragazzi, se non pubblico... Se non pubblico blog... Quando farò le cose che avete scritto qua sotto, in descrizione, vi dico che sto in ospedale per... Per cucimi la capa. Per cucimi la testa. Qua. Così divento Frankenstein. Ehm... Ragazzi, comunque, poi... Fra... Il 10 agosto... Il 10 agosto, mi pare, fra... Fra 10 giorni o 11, non mi ricordo. Vabbè, comunque, fra 11 giorni, sarà il mio nomastico. E quindi... Ehm... Lasciatemi anche degli auguri per il 10. Visto che il 10 farò anche un blog. Auguri per il 10, lasciatemi nella descrizione. Lasciatemi sempre un mi piace al video. Che come in ogni video, lo dico sempre, ogni alla fine del video, dico... Lasciate un commento mi piace. Ehm... Capito? Ragazzi, se faccio così, sto sentendo qualcosa. E no, no, mi gira la testa. Ragazzi, sembro meno amato se faccio così. Ehm... Allora, ragazzi, adesso dovete... Se quello che avete sentito è una canzone che forse non avete sentito, perché si sente da là, La TV è un po' troppo lontano, comunque. Se indovinate questa... Se indovinate questa canzone, che io non so nemmeno, ma sicuramente qualcuno di voi la... Qualcuno di voi la saprà. Scrivetemi nella descrizione, quello che avete sentito. Se non avete sentito, lasciate stare, mancate tutto fanculo e lasciamo perdere. Comunque, lasciamo perdere tutte queste fesserie, come fare il ballo, il ballo, cantare. Non lo voglio fare, soprattutto perché sto con la maglia, ma poi sotto non c'ho niente. Sto così. Eh, capi? Non c'ho niente. Fa caldo, raga, fa caldo. Come sto io, fa caldo, è naturale, comunque. Ehm... Queste cose due non le voglio fare, ma soprattutto... Una mia amica... Una mia amica di Whatsapp, eh? Mi rimuoveva sempre dai gruppi. Io ho detto davanti a tutti... Abbiamo... Abbiamo bloccato la Roberta perché rompe i marroni. E tutti che si sono messi a dito, soprattutto Aldo. Ha fatto... Madonna, raga. Dove registrare questa parte. Comunque, raga, mi pare che oggi farò un video in villa. In villa, sì? Mi pare. Perché l'altra volta non l'avevo fatto. Sicuramente oggi lo farò. E troverò un modo anche per scaricarlo, perché non lo so come si carica. Lo devo condividere, ad esempio... Condividi questo video su YouTube. Non lo so come si carica un video caricato. Boh, non lo so. Comunque, raga. Troverò un modo, troverò un modo. Sono qui. Madonna mia che... Comunque. Eh... Abbiamo quasi finito. Mancherebbe soltanto un minuto per la conclusione di questo video. Eh... Comunque, i regali per il 10 sono quelli che devono essere. Comunque, il 10 agosto mio padre mi da il suo computer e mi metto il mio. Così, raga, possiamo fare gameplay su molti, molti giochi. Ad esempio, possiamo fare gameplay su... Slender's the Erival, di Erival, che non l'ho mai fatto, ma è molto bello. Scribbenauts Unlimited da Mnesc, che me lo state consigliando in tanti, anche se non me lo state consigliando, ma lo voglio fare. Consigliatemi dei giochi da fare sul mio canale, comunque li farò. Eh... Siamo giunti anche oggi al termine di questo video. Se il video vi è piaciuto lasci il commento un mi piace, se non siete con iscritti iscrivetevi. E noi ci rivediamo in un prossimo video. In un prossimo blog, in un prossimo video. Comunque, quel video di oggi, non so se lo posso caricare oggi, visto che ho fatto questo blog, non ho voglia di caricare due video, due video insieme. Visto che per fare il blog non c'è bisogno di nulla, porca bacca, mi stava cadendo il microfono. Non c'è bisogno di nulla, basta semplicemente fare il video e condividerlo sempre, se sia così. Che vostro credo che non me lo condivide, ma me lo... non so se me lo carica sul canale, oppure me lo condivide sul... Madonna mia, due volte lo sta facendo. Se me lo carica, oppure me lo condivide sulla pagina tutta iniziale, comunque raga. Lasciate un commento a un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi. Ci rivediamo nel prossimo video, sempre se posso fare Happy Wheels. Bella ragazzi.